Emergenza coronavirus in Campania, la curva del tasso di positività risale sopra il 4%, sono 533 nuovi contagi e 21 morti. Il governatore De Luca intanto vuole più vaccini e chiede più scorte al commissario Figliuolo per completare il programma di immunizzazione di tutta la popolazione campana entro l'estate. De Luca intanto annuncia il rush finale per Bacoli e Monte di Procida che saranno covid free entro due settimane e spiega come la strategia dell'avanti tutta su isole e fasce costiere ma anche località turistiche sia stata quella vincente. Intanto si avrà breve il parere dell'EMA per i vaccini Pfizer degli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni per tornare alla didattica in presenza a settembre. Via Libera subito invece per le dosi ai maturandi da somministrare entro maggio per fare gli esami di Stato in sicurezza. Credo che la campagna si vanno gli ottimi risultati su questo tema e questo ci permette anche in previsione delle dosi di vaccino che arrivano di considerare queste fasce aggiuntive che hanno comunque una grande rilevanza anche sociale. Sullo sfondo il caso della festa di 18 anni con tanto di show di neomelodico ad Ercolano in provincia di Napoli. Una festa fermata dai carabinieri. Il party si teneva a casa di Pietro Papale, esponente dell'omonimo clan, ed era stato organizzato per festeggiare il compleanno del fidanzatino della figlia. Il cantante neomelodico multato, come tutti gli altri dieci presenti tra i quali Papale, si chiama Vincenzo Martire ed è noto col nome di Enzo Barone.